Libera, democratica, chiavarese, Silvia Garibaldi. Questo è il testo che accompagna la foto di alcuni manifesti comparsi in città. Silvia Garibaldi, che cosa ha voluto comunicare con questi manifesti? Ho voluto comunicare che vorrei costruire un'alternativa, un'aggregazione che sia civica, che sia liberale, che sia cattolica, riformista e moderata. Un po' com'è lo spirito della nostra città. Lei è una consigliera comunale di opposizione o di minoranza, a seconda di come la vogliamo dire, e sarebbe stato naturale pensare a una sua appartenenza nella centrodestra di questa città che si è proposto alle prossime elezioni. Che cos'è che lei non condivide? Io non ho condiviso il progetto del centrodestra perché era molto arroccato sui simboli e io ho fatto presente comunque che questo secondo me era limitativo, impediva di allargare alla società civile e quindi di costruire delle liste che rappresentassero bene i cittadini e avessero un buon risultato alle elezioni di questa primavera estate, diciamo, perché è giugno. Quindi è uno schema civico quello che lei avrebbe in mente? Sì, uno schema civico molto allargato alla società civile e a forze giovani nuove, fresche. Per quanto riguarda le competenze, cosa pensa? Allora, per quanto riguarda le competenze vorrei un mix di persone già competenti della cosa pubblica. Io, per esempio, ho 15 anni di esperienza, ma anche persone che entrino e che possano imparare la cosa pubblica per creare un ricambio. La cosa pubblica è qualcosa che riguarda l'amministrazione della città, ma anche il suo vissuto. Ecco, su questo che proposta ha? Allora, io vorrei, Chiavari, vederla ritornare, quella che era un tempo, città capofila, città moderata e città capofila nell'istruzione. Vederla diventare di nuovo un centro direzionale, vederla diventare di nuovo una città di servizi. Un ruolo di capoluogo che aveva forse... Sì, anche un ruolo di capoluogo, un ruolo che tante volte ci ha portato a, non dico a contrapporci, ma comunque a avere un certo peso rispetto a una Genova che cerca sempre di più di essere matrigna. Chiavari è in sé radicata anche a una cultura cattolica, come si pone in questo? Io mi ci sento appieno configurata. Quindi uno schema civico e una proposta che ridia a Chiavari un ruolo. Sì, io voglio di nuovo vedere Chiavari capofila, voglio di nuovo vedere Chiavari in primo piano, dialogante con le città vicine e con grande importanza sul comprensorio, sull'entroterra, un punto di riferimento per l'entroterra e per il comprensorio come era un tempo e come a pieno titolo dovrebbe essere. E per quanto riguarda l'autonomia di questa città? Ma Chiavari è sempre stato un contrapeso a Genova Matrigna, vorrei che ritornasse ad essere questo. Quindi nella ricerca di compagni di viaggio nel suo progetto chi pensa di poter coinvolgere? Persone moderate, persone che nel dialogo cerchino la soluzione dei problemi e che soprattutto abbiano il contatto con la città e i cittadini. Persone che quindi dialoghino con i cittadini quotidianamente e riportino in amministrazione il risultato di queste interviste, di questo dialogo, di questo vivere la città.